Quando ho registrato il video, ovviamente Emma Stone non aveva ancora vinto l'Oscar come migliore attrice per questo film, povere creature, ovviamente perché l'ha vinto stanotte, non ci sarebbero stati i tempi necessari per vederlo e per elaborare il video e per editarlo, ovviamente. Non mi sorprende affatto che Emma Stone abbia vinto l'Oscar perché la sua interpretazione all'interno di questo film è veramente magistrale, ha interpretato un ruolo assolutamente non facile, quindi congratulazioni tanto di cappello ad Emma Stone, spero se non lo avete ancora visto che la mia recensione vi possa motivare a guardarlo perché ne vale veramente la pena. Buon ascolto. Avevo preannunciato che avevo intenzione di occuparmi anche della recensione di film, per quanto questa non è la prima recensione di film, dato che ho già recensito i film di Harry e Meghan. Per chi, se li fosse persi, avesse bisogno di stimolarsi il vomito, trovate le mie recensioni personali qui su questo canale, ma adesso andiamo a recensioni di film ben diversi. Ho il piacere di iniziare con l'ultimo film che ho visto che è, a dir poco, un capolavoro, Povere creature di Yorgos Lantimos. Il mio primo contatto con questo film è avvenuto quando stavo per prendere La Metropolitana e ho visto la pubblicità. E lì per lì, dalla locandina, onestamente, ho visto questo Pobre Scriaturas, titolo spagnolo, titolo originale in inglese Poor Things. Non mi ha, diciamo, colpito più di tanto, non mi ha fatto dire effettivamente lo voglio vedere. Ma, dopo averlo visto, non posso che dire sta minchia. Direi wow, ma siccome sono siciliano, dico sta minchia. Però, perché è veramente un film da vedere. Infatti non vi farò nessun spoiler. Mi muoverò attorno ai dettagli, perché veramente ve lo dovete vedere. Ve lo dovete vedere. Se non vi voglio io abbastanza, non lo so, fate... Ve lo dovete vedere. Allora, questo film ci catapulta in una dimensione praticamente indefinita, perché temporalmente siamo nella Londra vittoriana, quindi 800. Il film, tra l'altro, è tratto dall'omonimo romanzo di Alasdair Gray del 1992, quindi molto recente. Di evidente ispirazione al Frankenstein di Mary Shelley, però con dei connotati completamente diversi. Per non parlare anche dell'epilogo diverso. Innanzitutto, Frankenstein era un uomo, la creatura, non il dottore. Qui abbiamo a che fare con una donna. Questo film esalta la figura femminile. Cosa succede all'interno del film? Innanzitutto, il dottore Godwell, interpretato da William Defoe, ha trovato il corpo di una donna morta, suicida, che si è annegata nel fiume, probabilmente Tamigi. E il corpo di questa donna è ancora vivo. È ancora in rigor mortis. E questa donna è incinta. Ora, lui fa un ragionamento che per l'epoca è molto avanti. Perché dice, io avrei potuto riportare questa donna in vita, l'avrei potuta salvare, però sarei andato contro la sua volontà. E soprattutto, se l'avessi riportata in vita, l'avrei condannata ad un'esistenza ancora peggiore di quella che l'ha spinta a suicidarsi. Perché sarebbe andata a finire o in un ospedale psichiatrico, perché aveva commesso suicidio, o in carcere. Fa anche una matura riflessione su come la società sia attanaiata dalle regole e dal falso perbenismo della religione cristiana. Infine, decide, dato che la donna era incinta, non di rianimare la donna, ma di prendere il cervello del bambino e di metterlo nel corpo della donna. E vedere come funziona l'esperimento. Nasce così Bella, la sua creatura. Bella, interpretata da Emma Stone, che nel film è sia principale interprete, e aggiungerei anche magistrale interprete, perché è veramente, veramente brava. Ed Emma Stone è anche produttrice del film. Bella quindi diventa l'esperimento del dottor Godwill, il cui anche nome è significativo, in quanto Godwill, le prime tre lettere, God in inglese, vuole dire Dio. Ed è evidente l'allusione al fatto che, dato che lui ha creato la vita, e in un certo senso ha un'immagine di sé molto autoritaria, e anche molto esaltata, al punto tale da credersi Dio. Per farsi assistere in questo esperimento, recluta un suo studente, Max McCandles, interpretato da Remy Youssef, il quale deve essenzialmente prendere nota di tutti i progressi di Bella. L'inizio del film ci immerge in un'atmosfera gotica, grottesca, tetra, e piuttosto surreale. Le prime immagini sono immagini in bianco e nero, e il film rimane in questo bianco e nero misto sepia per poco meno della metà. All'inizio addirittura le prime scene sono senza dialoghi, con una musica piuttosto meccanica, elettronica, interrogativa, misteriosa. Lo spettatore, alle prime scene del film, non è in grado di capire se sono scene reali o se il regista ci sta mostrando un sogno. Gradualmente vengono introdotti dialoghi e si inizia a capire di che cosa si tratta. Quindi diciamo che lo spettatore è portato all'interno del film gradualmente, prima attraverso la vista e successivamente attraverso il suono. La figura principale, quella di Bella, è essenzialmente la figura protagonista del film, in quanto tutta l'attenzione è concentrata su di lei. L'attenzione dei scienziati, ma anche l'attenzione dello spettatore, che si chiede come funzionerà questo esperimento, cosa succederà, che piega prenderà il film. Bella è una bambina, essenzialmente perché cerebralmente è una bambina, nel corpo di donna, dimostra appunto di essere una bambina nei suoi comportamenti, nel modo di camminare, nel modo di parlare. Bella utilizza soltanto gli infiniti, ovviamente si sta sviluppando, però in contrasto a questa sua crescita graduale, ci viene mostrata una personalità di Bella che è assolutamente forte, determinata, che non si lascia ingabbiare dalle regole, che sa quello che vuole, sin da subito. I bambini possono essere bambini timidi, introversi e anche ubbidienti. Bella non è una bambina ubbidiente, Bella è una bambina che ha delle volontà e le impone. Bella è essenzialmente il simbolo della donna che non si fa ingabbiare dalle regole della società. Bella è anarchica, è un film prettamente femminista, evidentemente femminista, in quanto questa Bella, essendo di fatto agli occhi della società una donna, è una donna che va contro gli schemi e le regole del buon costume, ma non perché li voglia contrastare volontariamente, semplicemente perché non ne capisce i meccanismi e non ne capisce la logica. In quanto bambina Bella scopre il piacere di darsi piacere, lei lo chiama darsi la felicità da sola, essenzialmente parla della masturbazione, però gli viene subito imposto di non fare queste cose perché non si fanno. Ma Bella, in quanto essere ribelle, non capisce per quale motivo non si possa effettuare la masturbazione, dato che porta piacere, quindi va contro la logica. Ed essenzialmente, anche se me lo sapete spiegare perché non si può effettuare questa cosa, visto che fa bene, la nostra società ci dice che diventi cieco, ma vabbè, io ci vedo ancora, comunque sia. Bella, con i suoi comportamenti, rende evidente come le regole attorno a cui si erge la società non hanno senso, sono contro la logica, essenzialmente. E per questo lei decide di non seguire la logica delle regole che le vengono imposte, ma di seguire il suo istinto. Tant'è che cerca di aiutare la cameriera a dare piacere a se stessa, lei si aiuta con frutta, verdura e vuole cercare di, diciamo, condividere questa sua scoperta. Il problema è che lì, appunto, viene in contrasto con le regole della società. È il pudore. Ad un certo punto, il dottor Godwell si rende conto che probabilmente il suo assistente si sta innamorando di Bella e vuole, in un certo senso, agevolare questa unione, regolarizzando questo matrimonio con un contratto. Chiamano un avvocato, l'avvocato Weatherburn, interpretato da Mark Ruffalo, il quale però è un essere molto insidioso. Infatti l'avvocato si innamora di Bella. Bella è un avvocato anche abbastanza spregiudicato, anche a livello sessuale. Bella è alle prese con la conoscenza della sua intimità, quindi non si fa problemi ad accoglierlo, essenzialmente decidono di partire. Bella decide e comunica al dottor Godwell che vuole partire, partirà per un periodo, poi ritornerà e al suo ritorno si sposerà con Max. Questo è il suo progetto, nonostante i pareri contrastanti sia del dottore che di Max, lei segue la sua volontà. Nel momento in cui loro arrivano in Portogallo, Bella è l'avvocato, il film passa da bianco e nero a colori. E in questo passaggio a colori si ha una rivoluzione fotografica che ci catapulta in scenari che sono a dir poco spettacolari, che ricordano in modo insistente i quadri impressionisti come quelli di Dalì o di Magritte. I colori sono vivi, accesi e non convenzionali, perché per esempio abbiamo un cielo viola, un'architettura assolutamente futurista, che per niente diciamo si addice ai tempi in cui viene ambientata la vicenda. Da questo momento in poi la sceneggiatura con forme e colori tende proprio a stupire lo spettatore. Questo viaggio ovviamente come qualsiasi viaggio in narrativa è un viaggio che rappresenta un viaggio interiore, rappresenta il maturare del personaggio che lo intraprende, è il tipico viaggio di crescita del romanzo di formazione. Infatti Bella ritorna da questo viaggio che è già matura. Lungo questo viaggio lei affronta difficoltà che sono sempre più grandi e problemi che sono sempre più grandi. Se a casa del dottor Godwill il problema era toccare se stessa, in viaggio con l'avvocato Weatherburn il problema diventa la gelosia di questo avvocato. Loro hanno essenzialmente una relazione sessuale ma non stanno insieme. Bella non si lascerebbe ingabbiare dalle grinfie di un uomo. Quindi lei ha rapporti sessuali con lui, ma mentre lei è una giovane bambina insaziabile, lui è un uomo diciamo più avanti con l'età. E quindi quando lui non è disponibile, lei va cercando altre persone. Ma questa è una cosa che lei fa senza nessuna malizia, semplicemente non ci vede niente di male. Il contrasto e i problemi aumentano perché non è più il problema che lei ha con se stessa, ma con il rapporto con la società. In questo lei si entra in contrasto ovviamente con il gelosissimo avvocato Weatherburn che è geloso a livelli maniacali ed è ovviamente un contrasto in cui l'avvocato Weatherburn è destinato a perdere inevitabilmente. Bella è una donna libera, è una donna che sa quello che vuole e sicuramente non vuole lasciare limitare la propria libertà da un uomo. Sia esso suo padre, sia esso il suo fidanzato, sia esso il suo compagno di viaggio. Il climax rappresentato dalla questione sessuale cresce ancora di più nel momento in cui Bella, per via del fatto che ha donato tutti i soldi dell'avvocato, determina la caduta in disgrazia della coppia. Pertanto per rifarsi dei soldi e per risollevare la situazione decide liberamente di entrare in un bordello e di lavorare come prostituta. Non ci vede nessun problema perché dopo tutto a lei piace il sesso. A maggior ragione ci guadagna, quindi è un win-win situation. Soltanto che anche all'interno del bordello lei entra in contrasto con le regole della società perché vorrebbe essere lei a scegliere i clienti e non al contrario. Si ribella di fronte al fatto che sia sempre l'uomo, la figura maschile, a determinare la sua supremazia sulla donna. Mentre Bella è in viaggio, scambia qualche lettera con il dottore e Max che nel frattempo hanno deciso, per via del fatto che si sono rassegnati al fatto che Bella non sarebbe ritornata, di generare una nuova creatura simile a Bella. Quando Bella torna a casa è ormai una donna. Ha affrontato tante situazioni, il suo linguaggio non procede più attraverso infiniti, ma lungo il suo viaggio ha letto libri, è maturata ed è una donna accolta, ha acquisito una proprietà di un linguaggio forbito e colto e l'ascesa di questa figura femminile continua quando decide di diventare anche lei una dottoressa. È sicuramente, senza ombra di dubbio, un film femminista che valorizza la figura della donna come essere indipendente e che ha tutto il diritto di sentirsi tale. Non vi spoilerò il finale perché lo dovete vedere, ma vi dico soltanto che prima della fine del film Belle incontra suo padre, cioè il marito della donna che la portava in grembo. L'epilogo è tutta una sorpresa. C'è da aggiungere in ultimo, per concludere il discorso sull'indipendenza di questa figura femminile che è talmente indipendente e talmente determinata nell'imposizione della sua libertà a livello sessuale che ovviamente sfocia anche nell'ambito della preferenza di genere, conquistando essenzialmente a 360 gradi il suo progetto di autodeterminazione. Questo è il mio racconto per voi di Povere Creature di Yorgos Lanthimos. Spero di avervi invogliato abbastanza. Vi ringrazio per la vostra attenzione se siete arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo di lasciare un like, un commento se vi è piaciuto e vi vediamo alla prossima recensione. Ciao!